Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video assaggi tutte cose comprate da Etienne quindi vai spiega cosa hai comprato Ah devo iniziare io? Eh sì, sono preparato Allora abbiamo queste qua che praticamente ho preso la continuazione dei gusti che avevamo già preso quando abbiamo fatto i video in montagna che in realtà in questo momento penso che il video non sia ancora uscito e quindi lo faremo poi uscire prima di questo comunque per una continuity Allora, sono di quest'estate, vai Posso dire i gusti di quest'estate? Sì certo, erano al jamon serrano, quindi il prosciutto crudo spagnolo e il tartufo mi sembra Sì, no non mi ricordo se erano al tartufo o se erano a... Sì, perché mi avevo preso da un'altra cosa il caviale e da un'altra cosa perché ho già questo al tartufo E' un'altra cosa Vabbè, però, ok Lo vedrete prima di questo video uscirà quell'altro E ci sono queste qua che dovrebbero essere quelle normali Dice solo extra tick quindi dovrebbero essere quelle più spesse Perché qua si vede che la patata è più spessa rispetto alle altre patate Sì, ma in realtà è anche un'altra inquadratura Però... Vabbè Sì Poi Ci sono queste qua che sono quelle diciamo un pochettino più semplici Che sono quelle al sale dell'Himalaya E poi le ultime Perché non so se ce ne sono altre Queste qua sono al wasabi Che è preso tutto per te perché è al wasabi Sì, tanto per te ho già preso quelle col sale rosa Sì Ok Poi Poi Non sapendo Cioè ci sono già da un bel po' queste bibite però Le ho trovate tutte assieme Non le avevo mai assaggiate E ho detto perché no Abbiamo tutte le bevande organics della Red Bull Che è questa qua abbiamo un ginger Ginger ale Poi abbiamo Questa qua dice lemon Si vede anche i pezzettini dentro Sì andrebbe anche un po' citata Sì che ce ne è anche sul fondo C'è un depositino Ecco così si vede meglio che ci sono i pezzettini di limone Questa qua è acqua tonica E questa qua è Che non mi pare basta La cola Che è tipo Rossa Però bene Sì più trasparente Ok Che in realtà la cola mi sembra che l'avevano già fatta anche in lattina Però mi sembrava che fosse Energy Energy drink Era energy la cola Era energy anche mi sembra Sì però mi ricordo che c'era il cosino Era la Red Bull alla cola Cioè che sapeva di Coca Cola Queste qua invece Anche guardando sui Sull'etichetta Sulle cose Non c'è taurina Non c'è niente Quindi non dovrebbero essere Un ingrediente di origine naturale L'energetrink questi Un ingrediente di origine naturale Efervescente Con armi naturali E stati vegetali E la scritta che c'è su tutte Poi vabbè ci sono gli ingredienti Sì no però se tu anche leggi gli ingredienti Acqua, zucchero Sì non spunta taurina Non spunta Cioè diceva buona Non c'è guarananina Non c'è robe strane Qua l'unica cosa che dice Aroma naturale di caffeina Da chichi di caffè Vabbè grazie perché la cola Ma in questa non c'è Quindi Limone e di quassia No però appunto Non c'è taurina È una naturale di arancia e di lime Non c'è taurina Non c'è niente Quindi dovrebbero essere proprio Ah ma è bitter lemon Quindi mi farà schifo anche questa Sì Non so Forse è la cola mi piace Simpli cola Simpli Simpli Ok Da cosa partiamo? Boh Per me partiamo da quelle normali Delle patatine Così mi faccio la buona Anzi In realtà partiamo da una di queste Così facciamo lattina Patatina No devo mangiare quelle patatine Perché veniamo dal video Il saggio di prima Che mi ha un po' Sconvistolata Ok allora mangiamo la patatina Sì Mangiamo le patatine normali Così mi facciamo la mocca buona E poi Io direi che si aggiamo prima queste Che non ti piacciono No Quindi la tonica Quindi partiamo dalla tonica Tra l'altro come tonica È Giallina Infatti ci sono rimasto un po' male Perché Sì ma quello ragione l'altro Sì Però mi piace Queste sono Queste sono patatine premium E sono Tic Minchia Extra Tic Extra Peppare se Cioè queste sono tre patatine messe in una Sì No madonna Crunchy Però sono buone Non sono neanche tanto salate Sono un po' umite forse Sì Però adesso quasi tutte le patatine Cioè sono Io quelle Le patatine quelle normali Le trovo Tra l'altro sono tutte by Rubio Non so chi è Rubio È la marca L'ho scoperto facendo altro video Staggiatura Sì Perché la marca pensavo fosse con la sopra Che era l'inessence Sì ma Rubio è un'altra marca Cioè è come per dire Organics By Red Bull Sì una roba del genere No non esce Rubio È arrivata la pizza? Sì Con tipo mezz'ora di anticipo? Un'ora No quanto è? Avevo detto alle nove No Un quarto va bene Va bene Va bene Ehm Allora Apriamo questa Quindi ci frutturiamo? Sì Apriamo su Eh tu mamma Ok Ok Praticamente ho paura che Sbordicinasse fuori Perciò un po' di strommetta Dai in fretta Sbordicinasse fuori A po' le patatele al wasabi che mi faranno stupi uguali Buona, è tonica Tra due minuti la pizza è qui, non ci dobbiamo muovere Però è giallina Questa è la patatine al wasabi Quindi vuoi fare un video così, una speedrun? Una speedrun del video Ah, così Presto, apri la limone Vai Belli questi video professional Anche quelle là ero tic, queste invece non sono tic, sono normalissime, sono sottili Un po' di limonosa, vai Come voglio sapere lo tipo Tu stappo, stappa Sì, sta di arancia Sta di limone a mano Vai, con il ginger è arrivato di cola Il ginger è l'unica cosa buona La cola è un po' come Sendo organica sembra la molecola, non sembra la cola quell'originale Anche il ginger è buono Sì, anche la cola è buona Questa non mi sembra che sia bella di sale rosa Però Anche la pizza è la mia mamma Sì Vediamo come mi sentiamo Scusate ma la pizza è prevista per un orario molto più avanti E' arrivata tra più di mezz'ora Allora Queste ovviamente sono da Lua e Babie A me non piacciono Però sono più speste Rispetto al Cioè sono meno speste di quelle extra tic Ma sono più speste rispetto a queste Queste sono super Sottili E poi sono extra tic Queste non sento il sale rosa Ma dopo aver bevuto la tonica che mi fa schifo La cosa lemon bitter Che mi fanno schifo Magari non lo sento per quello Mi sembrano patatini normali Niente di Interessante Queste Red Bull Organics Queste due mi piacciono Sia il ginger sia La simplicola Anche se non è proprio il massimo Vorrebbe bevibile Queste no Ma perché a me non piace l'acqua tonica E non mi piace la limonata amara Il pompelmo amaro E l'aranciata amara Ecco è arrivato il gatto Etienne di la tua E poi Salutiamo No per me allora Queste sono L'Organics sono tutte buone Mi metto ancora qua Esatto Così c'è anche il gattino qua Che Sì non si vede Mi tanto spunta No l'Organics per me sono tutte buone Non vale diciamo il prezzo Perché Essendo comunque nella bottiglia Di vetro Cosa Mi sembra che siamo Sui due euro e qualcosa Per ogni Bottiglietta Quindi Cioè se devi prendere Una cola Tanto vale che ti prendi La coca cola normale Che anche se prendi Il bottiglione Hai Aspetta che Anche se Se prendi Conviene prendere il bottiglione Mettiamola così Anche se poi uno da solo Se la porta a casa Se la beve a casa Patatine Erano meglio Quelle che avevamo Presa in montagna Vabbè ma Queste allora sono Semplicemente Sono molto spesse E un po' unte Perché Essendo così grosse Sono un po' unte Queste Sono normali Non sento sale rosa Queste Tu cosa dici Questo tu senti sale rosa No Cioè sono E sale Sono palazioni normali Sottili e extra Extra Tic e sottili Perché io se devo dirti la verità Cioè sale rosa Neanche normalmente Riesco a distinguere Molto la differenza Ma sì Queste Quelle invece sono buone Cioè sono Mi piacciono Hanno un piccantino Che arriva dopo Che non è malvagio Eh a me il wasabi Non piace infatti Io ho saluto Un pezzo piccolissimo Buttato giù Assieme a tutte le altre Due bibite Che mi facevano schifo Va bene E quindi niente Niente Dobbiamo andare a mangiare le pizza Ragazzi scusate Ma È così È arrivato inaspettatamente In estremo anticipo Quindi niente Per pareggiare le volte Che hai arrivato in estremo ritardo Esatto Mi salutiamo La legge di grandi numeri Mi salutiamo E come sempre Un video Poi di testa Quando ci siamo io e Etienne Grazie per aver visto Un bacio Ciao Ciao